È stato un pessimo fine settimana sulla nostra isola. I numeri dell'emergenza coronavirus vedono aumentare il numero delle vittime. Ne abbiamo avute due in 24 ore. Entrambe sono nonnine di Villa Mercede. Si aggiungono alle due decedute nelle scorse settimane. La prima brutta notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di domenica. Si tratta di un'anziana di Villa Mercede, 83 anni. Era stata ricoverata al Rizzoli in seguito alla complicazione del quadro clinico. Era ovviamente positiva al covid, ma non è possibile stabilire quanto il covid abbia realmente inciso sulle varie complicazioni. Fatto sta che la donna non ce l'ha fatta. Nella notte tra domenica e lunedì, poi, una nuova vittima, ancora riferita al focolaio Villa Mercede. Si è spinta un'anziana di 81 anni, quella che era stata ricoverata alcuni giorni fa in condizioni abbastanza critiche, in seguito alle complicazioni di patologie pregresse. Era stata intubata, ma non c'è stato nulla da fare. Si tratta della quinta vittima sull'isola dopo il compianto Claudio Picconi. Sono arrivati quattro decessi, tutti riferiti al focolaio di Villa Mercede. Per quanto riguarda invece i guariti, come preannunciato, stanno pian piano aumentando sia i pazienti dimessi dall'ospedale Rizzoli che i guariti tra le persone in isolamento domiciliare. Grazie ad un'approfondita indagine di nuvola tv, possiamo affermare che i guariti ufficiali sull'isola siano 16. Tra questi 16, 6 appartengono alla famiglia Picconi, che è residente del comune di Barano, e nello stesso comune risultano guariti anche l'avvocato Buono e Consorte. Sempre tra le persone in isolamento domiciliare a Serrara Fontana risulta guarita l'infermiera del Rizzoli e a Forio la giovane ragazza che fu il terzo caso sull'isola d'Ischia. Il totale dei guariti tra le persone in isolamento domiciliare è di 10 persone, a cui poi vanno aggiunti 6 pazienti dimessi dall'ospedale Rizzoli, 3 residenti a Ischia, 1 a Casaminciola, 1 a Forio, 1 a Barano. Tra i guariti non risulta ancora il primo caso ischitano, il giovane di Barano, che è in attesa soltanto di formale comunicazione da parte dell'ASL e non sono compresi diversi concittadini che sono risultati negativi al primo tampone, ma attendono ancora l'esito del secondo. Considerando che il totale dei contagiati sull'isola realmente residenti ad Ischia siano in totale 88, se si sottrae il numero dei guariti 16 e il numero dei decessi 5, gli attualmente positivi sull'isola sono 67, compresi tutti gli anziani di Villa Mercede.